Dopo gli ottimi risultati di Giuliano e Pomigliano, l'alleanza giallorossa potrebbe approdare anche a Villaricca per l'appuntamento elettorale delle amministrative previsto per la prossima primavera, riproponendo così lo scenario di coalizione della vicina Giuliano. Un'alleanza, un laboratorio che realmente vede il Movimento 5 Stelle, questa volta vincitore, vince a Giuliano, vince grazie al Movimento 5 Stelle perché la percentuale incide tanto, quando il fattore è chiaro, il dato è tratto, il Movimento sui territori sta realmente crescendo. Quando si vede una decrescita, mentre non è così, prima parlavamo di due consiglieri comunali di Giuliano, oggi ne abbiamo quattro e li abbiamo in maggioranza, quindi penso che abbiamo inciso tanto. Al via anche le trattative con i DEM locali. Dopo Giuliano e l'affermazione di Nicola Pirozzi, la posizione del Movimento 5 Stelle a Villaricca è netta. Con i nostri facilitatori, con il nostro facilitatore regionale, Giovino, con i nostri referenti, di Marolina Castelloni e Salvio Micillo, in Comune Accordo decidiamo che l'ok deve partire da Villaricca. Parte da Villaricca perché sono gli attivisti, siamo i consiglieri comunali che realmente portano avanti la macchina del Movimento e quindi la forza la chiediamo qui, la chiediamo a casa nostra. Albano sgombra il campo dall'idea di un punzo bis e fa un passo personale in avanti. Ad oggi penso che si escluda il nome di Rosaria perché non penso sia espressione del Movimento 5 Stelle. Non abbiamo problemi ad andare in alleanza con il Partito Democratico o con le altre forze politiche, ma questa volta, a differenza di Giuliano, perché lì il sindaco è comunque espressione del Partito Democratico, chiederemo che sia un'espressione nostra, un'espressione che venga realmente lavorata dalla base, lavorata dal gruppo locale del Movimento 5 Stelle e se questo dovesse essersi e dovesse realizzarsi io non ho problemi a fare un passo avanti. Apertura all'accordo anche dell'esponente di Napoli Nord, Mario Molino. Con Mario c'è un ottimo rapporto, un rapporto che non nasce oggi ma nasce già da tempo. Lavoriamo insieme su tanti fattori, abbiamo un ottimo dialogo con lui, lavoriamo anche per quanto riguarda Cavalma, essendo lui uno dei riferimenti regionali.